Tutti in nostra compagnia, siamo nel Kosovo, le immagini dello stadio è stata riconosciuta in primis da 101 stati, membro, metropolitana. Lo stadio da cui ci salutano questi figli e tre figli è testimonial del Milan nel rapporto Pristina. Vedete il mister Giampaolo che firma alcune autografie, valori dello sport oltre che di se stesso e del proprio legame con i stati un po' ridosso della partita. Questo però non ha evitato, lo ha dichiarato anche negli Stati Uniti durante la tourneia ICC 2019. Il nostro allenatore, che è la squadra di Glogovac, non è la squadra di Pristina, sempre attualmente nel cui proseguì il suo cammino in Europa League. Qui si tratta di giocare la penulina di Reniza, sabato 17 agosto, gara ufficiale di campionato in Kosovo. La squadra Korkotic è un classe 1987, il Montenegrino, mentre il brasiliano stanza balorda contro il Benfica. È una partita veramente amichevole, veramente il Milan porta nella capitale del Kosovo, una capitale fino allo stato attuale delle cose con il Kosovo stato sovrano. Si gioca, sì. E Gabbia ha lo stesso, Gabbia è arrivato dalla Lucchese, pensava di fare qualcosa. Ancora il controllo da parte di Alessio Romagnoli che aveva saltato. Eccolo il 31enne brasiliano che si invola. La difficoltà per RR che però, per Andrè Silva, che ha la palla sul destro, la scucchiaiata per Castieco. Palla da Marco Giampaolo, insomma abbiamo una panchina illustre. Insomma entratina ben poco politicamente corretta, certo. Che Paolo Maldini, che Franco Baresi, che Daniele Massaro hanno vissuto. Vediamoci alla Noglu che mette in mezzo una buona palla, il colpo di testa. Non ha ancora vinto in questa estate di amichevole. Ancora il Milan, ancora Suso. Ecco Suso, la bella palla sul secondo palo, peccato. Cerca di giocare trequartista, certo è che c'è grande tra... Marcato anche dall'arbitro Suso, prova a liberarsi. C'è la Noglu, c'è la Noglu, il cross, la deviazione del Ferroni. Si sta facendo quello che chiede Gianpaolo. Si scambiano palla Suso e Krunic. Krunic ha il clima partita che c'è. Il fallo lo ha il stadio di Pristina. Ecco Suso che mette in mezzo una bella palla, il colpo di... L'incontro con i tifosi kosovari milanisti da parte di Suso. C'è stato nel corso della giornata Pristina un... A sue spalle c'era Krunic. Andre Silva ha dovuto elevarsi per prenderla. Krunic se fosse passato... Il tocco all'indietro per Cialanoglu. Cialanoglu! Bella palla, ma non... Che ha fatto molto bene. Ecco lo Suso che riceve. Si volta, si volta, dribbla. Prova a far passare questa palla, ma ne ha tre. Milan che vuole semplicemente avvicinarsi senza danni alle prossime partite. Un quadrato il direttore di gara. Si parlano Krunic e Suso. Vediamo Suso, il tiro e il gol! C'è il controllo da parte di Islani. Palla sulla destra, il traversone, la deviazione di testa. Abria poi la dà veloce a Biglia. Biglia il tiro alto. Suso gioca... La cui posizione magari sarà leggibile e prevedibile. Non è andato giù quel punto di distacco dal terzo e quarto posto da parte del... Ancora il cross, l'uscita di Gigio. Quadrato Daniel Maldini. Suso per questo tunnel. Castieco, Castieco dentro per Andresilva. Contropiede non di risulta ma organica verso la nostra area. Il tiro di Foti dei nostri avversari almeno per qualche iniziativa. Ecco il cross di Cialanoglu. Speravamo che ci andasse con le mani a favore del Ferronicheli e Chris Piontek. Si era fermato, poi ha proseguito la sua corsa. Andresilva, la palla esce. Bello il tiro di Andresilva. Di prima, lui aveva mirato, aveva piazzato. Minan in chiusura del primo tempo, le sono arrivate due. Perché anche il cross di Suso. Eccola l'occasione che volevamo. Grazie Andres. Eccola lo... Si toglie la maglia, gliela chiedono. Bastava... Gliela dava lo stesso la maglia. I ritmi non sono esaltanti. La regina di Pris 6esimo. Ecco adesso se la toglie definitivamente Suso Fernandezza. E' natima. Fare altro è abbastanza improbabile. Vallo di Ferronicheli Milan, inquadrato Chris Piontek di spalle e di sotto la curva dei nostri tifosi. E' presente anche il Milan Club Albania all'Ostera. Perché insomma il tasso emotivo non è inimpennato. Nuovo Milan propone Marco Giampaolo in questa ripresa. Anche Jack c'è Andres Silva. Antonio Donnarumma in porta. Antonio Donnarumma. Ecco che scorre bene il Milan. Milan bello fluido. Pacchetta! Mette la palla in mezzo. Prime battute rossonere. Dopo il Leli. Il colpo di testa di Romagnoli. La palla. Che ci stanno. Vediamo qui a causa Pacchetta. Che è da dentro. Per Buonaventura. Piontek se ne sta. Vedete? Qui se ne stava andando. Gli ha messo la mano in faccia. Gli ha messo la mano. Hanno un modo di giocare questi nostri avversari. Che francamente cazzi sul volto di Piontek. Piontek si stava a smasso. Sempre competizione. Raffaeleau. Raffaeleau. Molta. Perché possa esserci il mercato. In entrata. Buonaventura. Per Pacchetta. Pacchetta. E non può volto su se stesso. È caduto fuori dal campo. Biglia. Pistolero Piontek. Eh sì. Eh sì. Peccato. Peccato. Peccato era in. Pum. Viene annullato il pum 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 estivo rossonero. Vediamo. Quindi insomma. Ha fatto la sua preparazione. Di amichevoli. Qui si è messo palla sul destro. Ancora nulla di fatto. Borini ha sempre pitta. 13.500 posti. La capienza dello stadio di Pristina. Parte dei nostri avversari. Uscito Hoti. E uscita. Si allarga Raffaeleau. Mette in mezzo. Questa palla interessante. Per Borini. Di smacchichi. Raddoppia il Milan. 2 a 0 per noi. Grande assist dall'uomo. E fa assist per il gol del 2 a 0 del Milan. Eccolo Borini. Ringrazia Raffaeleau. Per l'ottimo lavoro fatto sulla scivolata. da destra verso il secondo palo. Un surplesso. Un nonchalance. Raffaeleau. 0 per noi. Quadrato Marco Giampaolo. Di giocare centralmente. Ancora Conti. Milan vicino al 3 a 0. Qui rivediamo. La palla. Per un altro ex atalantino. Un assist e un quasi gol. Buonaventura che giocano. Sai già quali sono gli undici che non giocano? Allora di fatto. Ogni ruolo. Noi abbiamo sempre visto vincere un Milan con tanti. Hernandez Trinic. E altre cose. Grande giocata. Piontek Buonaventura. Buonaventura la piazza. Buonaventura. Con Buonaventura. Giochiamo molto bene in questa ripresa. In campo. Lui ci tiene a rimanere in campo. Quindi in maglia 93. Splendido cambio di passo. Di Raffaeleau che poi va al cross. Pacchetta. Sulla fascia sinistra da cui ha fatto l'assist per Burini. Sulla fascia destra da cui è partito. Finisce la stagione in ottobre del 2018. Pacchetta inizia la sua. Larga il gioco per Strinic. Strinic la scucchiaia. Finisce a te. Ecco allora il Tirsa Milan al 69.31. Pesa in questo momento non più da Smachichi ma da 33. Trosciupa. Serie. Sario. Ancora. Ancora il Ferronicheli al tiro. Traversa. Punta. Che non aveva toccato palla per tutto il primo tempo. Qui. Ancora applausi per... Porte chiaro. Colpisce la traversa. Al 74. Ci sarà il derby a settembre alla quarta. Milan Inter in casa ancora. La tecnica non ci manca. Poi se... Buonaventura. Quindi bene. Pacchetta. Batte la punizione. Secondo palo. Raffaeleau. La palla. Vediamo. Testa l'indirizzo dell'arbitro. Lo hanno un po' affossato. Lo hanno un po' affondato. Guardate la corsa di Raffaeleau. Gli dà una grande palla a Jack. Raffaeleau. Raffaeleau. Bellissima di Jack Buonaventura. E Raffaeleau l'ha messa troppo alto. Gli è venuto male. Finito alto. I cori dei nostri tifosi. Maglie di... Che i giocatori li abbiamo. Poi oltre a quell'altro che abbiamo citato. Sintonia sul feeling con Suso. Attenzione a Borini. Borini più oltre di... Dove mette la palla Suso. I grandi attaccanti del Milan. Inzaghi, Shevchenko facevano... Creare un'intesa. Cercare di guardare i filmati di Suso. Costa. Pirlo. Li studiavano. Capivano prima dove andavano la palla. Loro si muovono. Con un Suso così bisogna... Cosa intendiamo per dire? Affinare i Pachetà nelle gambe. In questo momento del mese di agosto. Chiusura di Piontek. Però eccola qui la regia. Che indugia su questo... Con tunnel da parte di Pachetà. Entrano in campo. Con Strinic che potrebbe andare a fare il centrale. Al fianco di Musacchio. E la Xa. Esce anche Jack. Esce anche Jack. Non ecceda. Quindi Daniel Maldini al posto di Buonaventura. Bristrini ci si mette centrale. Al fianco di Musacchio. Del resto Strinic ha giocato centri. Borini mette in mezzo la palla. A far correre sulla fascia. Il suo compagno di squadra in maglia. Ben congegnato il cross. La Xalt. Borini. A pugni. Centrale. Pachetà. Se ne va Pachetà. Ancora di suola. Leão va da Brescianini. Brescianini che ha un gran tiro. Lo strozza. Lo schiaccia. Quale indietro. Servito Fabio Borini che restituisce. Una palla. Fabio Borini in questo momento è il... Pessimo da parte degli avversari. Dopo una serie di giocate meravigliose. Vedono una bella giocata e arrivano con il...